Buonasera amici, ci troviamo qui alla Masseria Luce, nel salotto di Carme per Contra, che sarebbe la sottoscritta. Allora intanto benvenuto Gennaro, Gennaro De Crescenzo. Allora Gennaro, io sono contenta e onorata di averti qua, stasera ci saranno tantissimi artisti ancora ed anche tante sorprese. Allora Gennaro, tu fai tantissime cose perché ti seguo. Ci puoi dire qualcosa tu, dai? Sì, grazie per avermi onorato, soprattutto per essere stato qui presente. Già ero stato l'altra volta da te, quindi ritornarci in questo posto è bello perché vedo molta cultura, molto roba antica, quindi sicuramente è una location bella. Non la conoscevo, devo dire la verità, però comunque mi affascina perché vedere questi attrezzi che usavano magari i miei nonni, quindi sicuramente è una cosa bella. Riguardo insomma gli eventi che tu dici, sì, ne sto facendo parecchi, sono veramente contento. Cosa di molto importante, ma non che le altre non lo siano. Di molto importante che sarò a Parigi mercoledì per una convention di moda, mentre invece il 3 dicembre farò il mio primo spettacolo al Teatro Salvo d'Acquisto, al Vomero, dove mi sono prefissato di prendere questo teatro di 450 posti, quindi ci saranno ospiti illustri, prezzo modico 12 euro, quindi insomma una cosa venderebbe. 3 dicembre è martedì, quindi ci sarà il mio primo concerto. Al Teatro dove hai detto? Via Salvo d'Acquisto, via Morgan, certo, adesso è Salvo d'Acquisto, a via Morgan, al Vomero, alle spalle di Piazza Manvitelli, i famosi salesiani per intenderci. Senti... Come sono rigidi, mamma, mamma. Qualche altro progetto che hai nel cassetto o che a breve magari... Ho fatto l'inedito Nato Sole che stasera porterò da te, quello che ho portato a stare in Bocantanapoli. E ti dico anche di più, dai, perché meriti. Ecco, grazie. 7 marzo sarò al Teatro Italia da Cerra. Sono stata ieri sera! Lo so, lo so, sono amici, infatti mi sono registrato quest'altra data, la seconda, quindi... È un bel teatro. Bello, è rinnovato poi, rinnovato da poco, sì sì. Una persona veramente, Carmine, giusto il proprietario, è una persona veramente di cuore. Allora, Gennaro, io ti ringrazio nuovamente per la tua presenza e niente, non ci resta altro che ascoltarti dopo. Allora, amici, vi saluta Carme per Contra e Gennaro De Crescenzo dal salotto di Carme per Contra, nella Masteria Luce. Un abbraccio di vero cuore e bocca al lupo per stasera. Ciao!